Devo essere sincero con voi, essere un ingegnere del software è veramente terribile e sicuramente non è una cosa per tutti. Guarda, non sto cercando di sconvolgere il mondo di nessuno né tantomeno di infrangere dei sogni. Penso solo che sia importante riportare le aspettative delle persone sulla Terra prima di fare degli errori che potrebbero veramente rovinarvi la vita. Molte persone che seguono questo canale vogliono diventare degli ingegneri del software. Tantissimi giovani studenti in giro per l'Italia sono stati ispirati dai miei contenuti e di questo non posso far altro che esservi grato. Comunque, prima di procedere a spiegarvi il perché di questa mia affermazione, ci tengo a sottolineare che ciascuna situazione è diversa. Quindi prendi le mie parole per quello che valgono, come la mia semplice e pura esperienza personale. Detto questo, ecco perché potresti non voler diventare un ingegnere del software. Partiamo da un punto noto a tutti. Gli ingegneri del software guadagnano uno sfaccello di soldi. Questa affermazione è assolutamente vera se paragonata alla stragrande maggioranza dei lavori che ci sono in Italia, ma vale soprattutto all'estero. Pensate che in una big tech americana un ingegnere del software può raggiungere anche i 250-300 mila dollari all'anno. Ma quindi a che cosa rinunciamo per raggiungere questi livelli? La mia risposta personale è una sola. A una parte della nostra umanità è spesso anche sanità mentale. Mentre molte persone si concentrano solamente sul successo degli ingegneri del software, spesso non si parla mai dei fallimenti e delle difficoltà che queste persone, me compreso, hanno affrontato. La strada dell'ingegneria, ragazzi, è piena di momenti in cui dubiterete di voi stessi. Ma sapete qual è la cosa più difficile di tutte e che vi fa veramente arrabbiare? L'ambiente e le persone con cui sarete costretti a parlare ogni giorno. Il 90% dei software engineer si percepiscono come questi membri di un elitario e immaginario club gold degli sviluppatori e se l'attirano davvero da morire. Da software engineer subirai commenti sulla validità tecnica di qualsiasi tua affermazione o azione per il resto della tua vita ovunque. Parliamo ad esempio del tuo linguaggio di programmazione preferito. Sarà una cosa soggettiva, penserete voi, no? Sbagliato? Se ti piace il Java, ci sarà qualcuno pronto a dirti che è un linguaggio del cavolo. Perché ormai c'è il Python. Beh, se ti piace il Python arriverà qualcuno che dirà Ma quella roba è solo per i laureati in matematica o per i data scientist. Ma lo sai che i veri programmatori programmano in C++? E non contenti arriverà sempre qualcuno che ti dirà Ma C++ è per i nabbi. I veri programmatori utilizzano solamente il linguaggio C. E quelli che appartengono proprio all'elite elite di questo club vi diranno Ah sì, C, carino. I veri programmatori programmano solo in assembly. Purtroppo questo problema che vi ho raccontato sotto forma di sketch non vale solo per il linguaggio di programmazione, ragazzi. Vale letteralmente per qualsiasi cosa. Ah, carina la tua tastiera, ma funziona? Beh sì, è una semplice tastiera meccanica da 20... Ma come 20 euro? Allora, tu devi mettere gli switch cherry brown in questi tasti. Poi su WASD ci metti cherry red e per le macro ovviamente cherry blue. Perché ovviamente hanno un fine corsa più lungo e sul finale che cosa senti? Senti il rumore! Vedo che stai usando Windows. Interessante. Ma lo sai che i veri programmatori utilizzano solo Linux? Ah, ma quello è un PC fisso? Ma lo sai che i programmatori se li assemblano i propri computer? Oh, ragazzi, ragazzi, ma vi va di venire a casa mia? Perché questa settimana vorrei installare... ARK Linux da zero! I use ARK, by the way. Ma se c'è una cosa che ho davvero adorato all'interno del software, sono di certo organizzazione e design. E un software come Wondershare e DrawMax è davvero perfetto per questo compito. Grazie a strumenti come questo è davvero semplicissimo presentare e strutturare tutto il vostro software. Avrete a disposizione una serie di template come diagrammi a blocchi o mappe mentali. Ma noi che siamo software engineer siamo innamorati dei famosissimi diagrammi di flusso. La particolarità di Wondershare e DrawMax è la completa integrazione di strumenti legati all'intelligenza artificiale, che vi aiuteranno a modellare più facilmente il vostro software. Proviamo ad esempio a scrivere. Disegna il diagramma di flusso della somma di due interi. Selezioniamo diagramma di flusso e a questo punto premiamo invia. Il software inizierà a generare. E come vedete abbiamo già una base che possiamo andare a modificare. Per farlo ci saranno tutta una serie di simboli, come forme oppure frecce, che saranno davvero facili da collegare gli uni con gli altri. Tipo, guarda che figata, shift sinistra, abbiamo appena creato una somma che funziona all'infinito. Per provare il prodotto trovi il link in descrizione. Durante la mia vita sono andato in una buona scuola. Ho ricevuto premi, borse di studio, ho preso la mia bella laurea magistrale 110 lode in software engineering, non sono mai andato fuori corso, ne ho avuto nessun tipo di problema durante gli studi, ma ancora oggi sento persone che mi dicono che non sono un vero programmatore. Semplicemente perché non ho atteggiamenti da programmatore che se la tira. Questo continuo flexare di essere il programmatore perfetto H24 è qualcosa di veramente nauseante. E purtroppo questa cosa si riflette anche nella stragrande maggioranza degli ingegneri che diventeranno vostri amici. A volte ti ritroverai ad uscire con dei colleghi che parleranno solo e unicamente di tecnologia. Parleranno mentre mangiati al sushi dell'ultima versione di Java che ha aggiunto le socket quantistiche aumentando nell'efficienza del 94.2%. Così come parleranno con fierezza del fatto che al lavoro hanno lavorato fino alle 10 perché un cliente doveva installare un sistema nuovissimo. Oppure vi racconteranno di come hanno installato il loro nuovo server da 128 GB di RAM e 700 Tera comprato su AliExpress. Da ingegnere del software dover sopportare tutto questo tantissime volte, perché non succede sempre e non tutti quanti siamo così ragazzi per fortuna, è veramente un peccato, perché credo fermamente che chi lavori al PC non sia solamente una macchina che deve avere in testa solo e unicamente la tecnologia. Alla fine siamo esseri umani, il motivo per cui molti software engineer e programmatori si comportano in questo modo è perché il loro unico hobby è sempre stato la programmazione. Per molti non ha assolutamente importanza prendersi cura della persona, fare dello sport, l'unica cosa che conta è la tecnologia. Ma soprattutto fare 200 progetti di cui vantarsi per pubblicarli poi sul proprio GitHub, facendoti pesare indirettamente di non aver fatto lo stesso. Diventare software engineer, ragazzi, richiede davvero tantissimo impegno e fatica. E soprattutto uno sforzo iniziale davvero notevole. I programmi universitari sono difficili e stressanti e richiedono un impegno giornaliero costante e una dedizione veramente senza pari. Ora so che la maggior parte di voi si starà chiedendo, ma Dani, ma per quale motivo sei diventato un ingegnere informatico se ci racconti tutte queste cose? Io ragazzi vi dico la verità, ci ho provato davvero con tutto me stesso. Ho dedicato una marea di ore fuori dalle lezioni per cercare di trasformarmi in una macchina che pensa solamente alla tecnologia. Ma non ci sono riuscito. Io faccio parte di quella piccolissima percentuale di software engineer che vedono l'informatica non come una religione da venerare ogni giorno, ma come un semplice strumento che vi può semplificare la vita, aiutarvi a risolvere problemi, ma soprattutto per aiutare gli altri. Se ci pensi un attimo, la programmazione in sé, come azione, è piuttosto noiosa. Dai solo una serie di istruzioni ad una macchina più e più volte finché il programma che hai immaginato non funziona. Non voglio assolutamente parlare di tutti, ragazzi. Ma penso che se lo stipendio non fosse così alto, molti di noi non passerebbero ore e ore davanti al computer cercando di risolvere bug di programmi. Se ci pensiamo un attimo, perché volevamo programmare in primo luogo? Volevamo programmare perché vedevamo le cose incredibili che possono essere costruite utilizzando il codice. Volevamo costruire qualcosa che avesse per noi significato. Personalmente ho iniziato questo tipo di carriera perché ho sempre voluto lavorare nel mondo dei videogiochi. È sempre stato un mio grandissimo sogno riuscire a lavorare in questa industria. In particolare per la Square Enix perché è un'azienda che ho sempre stimato un sacco e che mi ha regalato quando ero piccolo dei videogiochi che mi hanno davvero reso quello che sono oggi. Purtroppo ragazzi la realtà dei fatti in questo campo in particolare è completamente diversa da come me la immaginavo. Lo sviluppo dei videogiochi in particolare in Italia è davvero terribile. Cioè le paghe sono bassissime. Abbiamo pochissime software house che sono veramente valide e nonostante aver provato a inviare CV all'estero con un curriculum a mio avviso impeccabile impeccabile. Entrare in una big company senza avere dell'esperienza pregressa e quindi facendo 2, 3, 4, 5 o a volte 10 anni in un luogo in cui non riesci neanche a pagarti le bollette perché lo stipendio è bassissimo è praticamente un miraggio. Ad oggi come terzo lavoro, perché ne ho tre ragazzi, faccio anche l'insegnante di sostegno. Aiuto i ragazzi non vedenti ad imparare l'informatica. Eh sì, è molto complicata come cosa. E decine di ragazzi universitari e non che vogliono imparare qualcosa in più. Perché? Perché mi piace. Perché dopo il lavoro non ho voglia di mettermi a leggere l'ultima patch di Java che ha aggiunto 10.000 cose per fare in modo che il giorno dopo possa vantarmi con i miei colleghi del fatto che io lo so e loro non lo sanno. Se vuoi fare una lezione con me scrivimi su Instagram e ne farò ufficial. Non franquendetemi però. Non avrei potuto scegliere cosa migliore che studiare all'università. Perché lì ho conosciuto i miei attuali migliori amici. I stessi amici che mi odieranno guardando questo video perché sono tutti ingegneri informatici. Ma mi conoscono. Studiare mi ha fornito un set di competenze veramente pazzesco ragazzi. Una conoscenza che è stata fondamentale per farmi trovare lavoro e uno stipendio sicuramente migliore di quello che avrei avuto se non avessi fatto questa scelta. Alla fine ho abbandonato il puro sviluppo. E nonostante io sia molto bravo a farlo mi sono buttato su un percorso un po' più orizzontale che è un po' un mix tra programmazione, marketing e business. Così sto più a contatto con le persone e sono contento. Ad oggi come voi non so ancora cosa sto facendo, non so cosa vorrò, non so assolutamente nulla. Non so assolutamente che cosa voglio della mia vita. Ma probabilmente c'è una sola cosa di cui sono sicuro. è che nella mia vita ci siete voi, questo canale e la mia voglia di fare almeno qualcosa di piccolo, di buono per il mondo in cui vivo. Quindi tiriamo le somme. Ti sto dicendo che non dovresti in nessun caso diventare un software engineer perché siamo tutti cattivi, vogliamo la tecnologia e basta, siamo sociali, brutte persone? No, assolutamente no. Sto dicendo che dovresti diventarlo solo se lo desideri realmente. Scegli questa strada se le sfide sono la cosa che ami di più al mondo. Se il non riuscire a risolvere quel problema ti tiene sveglio tutta la notte, ma soprattutto se ami la soddisfazione di riuscire a fare andare qualcosa fatto da te. Questo percorso è davvero molto complicato e quindi l'unico modo per superare tutti questi ostacoli è farli in maniera genuina, con passione e con amore. In conclusione ragazzi, scegliete liberamente che cosa fare della vostra vita e non sentitevi mai giudicati se gli altri fanno una cosa che magari a voi fa schifo. E se ora stai pensando, beh volevo diventare un ingegnere del software ma dopo questo video ho cambiato idea, non preoccuparti. Ci sono una marea di opzioni diverse con la quale potrai lavorare a stretto contatto con la tecnologia. E se questo non bastasse, ricordati che questa riflessione è solo il mio personale punto di vista. E se credi che questa sia la tua vera passione, non lasciati frenare prima ancora di metterti in gioco. Adesso mi rivolgo agli sviluppatori. Siete d'accordo con me? Inviate questo video ai vostri amici sviluppatori e programmatori che ad ascoltare queste parole si sentiranno un po' feriti nell'orgoglio, ma che spero comunque decidano di lasciare una bella iscrizione a questo canale perché nonostante tutto io amo questa materia e non vedo l'ora di portarvi altri contenuti su questo mondo e sull'informatica. Un abbraccio!